Per la serie I protagonisti della psicoanalisi affronteremo oggi la figura di Heinz Coutt. Heinz Coutt è uno psicoanalista austro-americano e ne parleremo con il dottor Cristiano Rocchi. Cristiano Rocchi è psicoanalista, membro con funzioni dei training della Società Psicoanalitica Italiana e studioso da molti anni del pensiero di Coutt. Benvenuto Cristiano Rocchi e grazie di aver accettato. Grazie a te e alla redazione per avermi chiamato a fare questa intervista. Ecco, come nostra tradizione ormai diciamo, iniziamo cercando di inquadrare la figura di Coutt. Chi era Coutt? La particolarità di essere europeo emigrato negli Stati Uniti e di, come dire, la formazione poi all'Istituto di Chicago. Ecco, se vuoi un po' aiutarci a contare la figura. Allora, innanzitutto diciamo che Coutt, Heinz Coutt, anche se fu registrato proveniendo da famiglia ebraica con il nome di Wolf Hersh, nacque a Vienna nel 1913, poi è morto relativamente giovane, a 68 anni, nell'81 a Chicago per un tumore che Giallo l'aveva colpito diversi anni prima. e appunto nacque in una Vienna dove gli stimoli erano molteplici in quel periodo, come sappiamo, in tante discipline. Si laureò in medicina e intorno ai 25-26 anni terminò appunto gli studi in medicina e nel 1938, dopo la morte del padre, lui aveva appunto 25 anni, che lo colpì molto poi magari dopo, se avremo tempo, accenderò a qualche nota biografica anche nella relazione, soprattutto con la madre fece una brevissima psicoterapia quello fu il suo primo approccio con, diciamo, l'orientamento psicoanalitico con un certo Marseille la interruppe subito abbastanza cioè durò poco fu un'interruzione che avvenne poco dopo l'inizio e iniziò la sua prima vera analisi con Eichhorn Eichhorn era un personaggio importante in quel periodo non era ebreo e sembra che Cout l'avesse scelto appositamente proprio perché è cristiano purtroppo anche quell'analisi lì durò relativamente poco durò poco più di un anno perché iniziò nel 1938 e poi nel 1939 Cout, come molti ebrei purtroppo dovette scappare dall'Austria invasa dai nazisti e con un viaggio che durò alla fine circa un anno partì nel marzo del 1939 e intorno al marzo del 40 si stabilì a Chicago dopo avere appunto dopo essere andato a Parigi brevemente poi a Londra poi da Liverpool si imbarcò e arrivò negli Stati Uniti e poi si fermò a Chicago lì iniziò un internato in neurologia e dopo poco tempo rimise la sua domanda per l'ammissione al training psicoanalitico del Chicago Institute questi sono i suoi primi passi la sua domanda in realtà fu respinta i motivi ufficiali non li sappiamo anche perché negli archivi per quello che mi risulta non c'è scritto il motivo per cui fu bloccato Ornstein Paul Ornstein un suo allievo sostiene che fu bloccato perché aveva una personalità narcisistica che un po' paradosso però appunto di narcisisti nella società americana dell'epoca ma direi che comunque dovunque ce ne sono tanti fra gli psicoanalisti quindi il motivo probabilmente era un altro alcuni ritengono non so neanche se maliziosamente o no che una una ragione poteva essere una sua il suo orientamento sessuale non che fosse omosessuale però viene descritto come avere diciamo un'identità sessuale un po' fluttuante comunque fatto sta che poi come succede alle persone a quelli che poi diventeranno personaggi importanti si mise entrò in analisi con la Eisler con la Ruth Eisler la moglie di Kurt che peraltro Kurt Eisler era stato analizzato da Icorn il precedente analista di iniziò l'analisi con lei e poi iniziò il training e qui siamo appunto nel 43 e già nel 53 fu chiamato a svolgere un ruolo nell'istituto di psicoanalisi di Chicago fu chiamato ad occuparsi della riformulazione del programma di studi si già intravedeva un personaggio di grande spessore a quei tempi non a caso appunto fu chiamato relativamente giovane a svolgere quel ruolo e era sia si dice questo poi chi sente le sue interviste o i suoi seminari che si possono trovare anche su YouTube se ne accorge benissimo era un grande oratore un grande aveva delle grandi capacità organizzative e quindi diventò quello che negli anni alla fine degli anni 50 primi anni 60 negli Stati Uniti si chiamava mister psicoanalisi questo per dire appunto la rilevanza che aveva nell'ambito appunto nordamericano da noi in Europa in realtà è sempre stato non voglio dire misconosciuto ma insomma certamente non ha avuto quell'impatto sulla psicoanalisi che possono aver avuto altri altri personaggi entriamo un po' nella evoluzione anche del suo pensiero perché sicuramente la vita anche di Cout è stata piuttosto movimentata interessante partiamo diciamo da io dividerei un po' in due fasi una prima fase del suo pensiero che confluisce poi nel libro del 71 Narcisismo e Analisi del Sé nel cui libro del cui libro Cout dice che sono un'espansione delle idee freudiane quindi rimane nel solco della tradizione mentre poi col libro del 78 cioè The Restoration of the Self Cout prende la sua strada rompe diciamo con la con la tradizione e fonda ufficialmente la psicologia del sé ecco allora se ci dici brevemente poi magari guardiamo nello specifico allora prima di tutto vorrei segnalare questo che già nel 57 lui pubblica lui viene chiamato a presentare una relazione all'APA all'Associazione Psicoanalitica Americana una relazione che ebbe molto successo la presentò nello stesso anno sempre 57 a Parigi dove ebbe molto successo decise perciò di pubblicarla e ma gli fu rifiutata e pubblicarla presso il journal dell'American Psychoanalitical Association gli fu rifiutato la pubblicazione in prima battuta poi intervenne qualche personaggio tipo Gitelson personaggi di grande potere che sostenne che invece doveva essere pubblicato quell'articolo a cui faccio riferimento è introspezione e empatia metodo per l'osservazione clinica noi in italiano lo troviamo nella ricerca del sé per chi fosse interessato e poi anche in un altro libretto che è stato pubblicato solo in Italia è una raccolta di scritti mi pare a cura di Anna Caruso intitolato introspezione ed empatia allora quindi dicevo già nel cinquantasette in quest'articolo si intravedono tutta una serie di elementi concettuali diciamo sovversivi fra virgolette rispetto alla psicoanalisi tradizionale soprattutto appunto viene sottolineato vengono sottolineati i due concetti capisaldi della teorizzazione di Cout e della tecnica introspezione ed empatia e l'empatia viene considerata appunto come un metodo per osservare per comprendere per entrare dentro appunto come dice il termine stesso all'altra persona ma viene appunto concettualizzato proprio come un metodo osservativo fondamentale per l'analista lo scritto comunque per quanto introducesse delle idee abbastanza dirompenti abbastanza devianti rispetto alla psicoanalisi tradizionale venne molto apprezzato ma devo dire probabilmente fu sottovalutato da Cout stesso anche l'impatto che implicava un cambiamento proprio di modello rispetto al psicoanalisi tradizionale e tutto questo rimane diciamo silente anche perché come succede talvolta si intrecciano la dimensione di ricerca di scrittura con quella di potere perché come sappiamo appunto Cout dal 62 al 65 fu presidente dell'associazione di psicoanalisi americana e dal 65 al 68 mi pare vicepresidente dell'IPA e nel 69 tutti a partire da lui si aspettavano che sarebbe stato eletto presidente aveva personaggi come l'Anna Freud che lo sostenevano e invece tutto un tratto poche settimane prima delle votazioni proprio Anna Freud gli scrisse dicendogli che gli europei non lo sostenevano più quindi vedete poi la storia chissà perché questa ostilità diciamo nei confronti di Cout non lo sostenevano più per cui poi non fu non fu eletto fu eletto Rangel al posto suo non tutti i mali vengono per nuocere perché probabilmente la presidenza dell'IPA l'avrebbe distratto dallo scrivere e dallo continuare a produrre infatti proprio nel 71 esce come dicevi tu Anna Narcisismo analisi del sé Narcisismo analisi del sé dice Cout stesso che è per il concetto di sé quello che l'interpretazione dei sogni è per l'inconscio quindi ci rende bene l'idea della importanza fondamentale di questo testo e sempre come dicevi tu nel 70 questo scritto questo libro del 71 è comunque ancora presenta ancora una teoria che è abbastanza ben radicata nella teoria delle pulsioni però le intuizioni che aveva avuto Cout erano estremamente interessanti e diciamo sopravvissero alla loro prima formulazione per cui poi successivamente fra il 72 e il 77 e il 77 e il 78 propone un suo secondo modello che prevede una sorta di inversione a mio avviso del rapporto fra dinamiche relazionali e risposte libidiche la libido quindi diventa subordinata alla relazione questo tra l'altro ci consente di affermare tranquillamente che Cout è stato uno dei precursori e degli antesignani diciamo del modello relazionale psicoanazio a proposito appunto di proprio di questa inversione diciamo tra relazione e pulsione Cout stesso leggo la citazione dice sin dall'inizio l'esperienza pulsionale è subordinata all'esperienza che il bambino fa nella relazione fra il sé e gli oggetti sé la pulsione sessuale infantile isolata non è la configurazione psicologica primaria la configurazione psicologica primaria di cui la pulsione è solo una componente è l'esperienza della relazione fra il sé e l'oggetto sé empatico quindi un'importantissima divaricazione dalla teoria freudiana delle pulsioni l'altra specificazione importante che vorrei presentare citare è questa e anche qui appunto lo vediamo come deciso precursore del modello relazionale mentre per Freud la meta della pulsione è la sua scarica per Cout la meta della pulsione è l'oggetto quindi abbiamo anche qui un cambiamento radicale non si parla di scarica della pulsione come meta bensì come di raggiungimento dell'oggetto quindi la relazione in primis e siamo sempre diciamo così non all'interno a questo punto ma abbiamo comunque uno sguardo laterale alla teoria pulsionale ecco entriamo un po' ancora di più nello specifico parlando di alcuni concetti in modo da aiutarci a capire meglio il pensiero di Cout intanto cos'è il sé per Cout allora è un concetto è un'altra cosa quale posto ha il trauma in questa concettualizzazione chiaramente brevemente non vogliamo allora il sé è un concetto uno dei più interessanti di Cout non è facilissimo da descrivere da comprendere comunque Cout stesso dice che è al contempo un contenuto mentale quindi non si parla di struttura come è un contenuto mentale che è potenzialmente osservabile attraverso appunto che cosa introspezione ed empatia e al contempo salendo di un livello per astrazione appunto è un'astrazione derivata dall'esperienza chimica quindi è un contenuto e al contempo poi sul piano teorico possiamo dire che noi astraiamo questo contenuto e lo concettualizziamo come un sé come raffigurar come raffigurarcelo come sentirlo Cout stesso dice è quello che sperimentiamo come l'io delle nostre percezioni delle nostre azioni dei nostri pensieri delle nostre emozioni è un continuum nel tempo cioè qualche cosa che se uno diciamo fa un po' di introspezione in qualche modo se lo può rintracciare una persona diciamo normaloide come siamo tutti noi certamente certamente quanto più la persona è affetta è disturbata quanto meno questo senso di continuità del sé questa coesione del sé la sentirà carente e queste sono le patologie poi che affrontiamo diciamo tutti 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 i giorni nella nell'epoca attuale quindi il 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 se appunto diventa cioè si si costituisce nella nella teoria coetiana come un contenuto che noi possiamo osservare all'interno della relazione analitica per quanto riguarda l'empatia allora come dicevo prima empatia e introspezione sono due strumenti diciamo così che coet ritiene necessari per svolgere un'analisi che cosa come potremmo definire la l'empatia con una definizione di coet è la capacità di pensare e sentire se stessi nella vita interiore di un'altra persona capacità di sentire se stessi nella vita interiore di un'altra persona e è la modalità con cui noi raccogliamo i dati psicologici dell'altro la peculiarità dell'empatia secondo Cout è questa è che è una lui la considera una sorta di atto appercettivo che ci consente in un unico singolo movimento di cogliere quello che c'è nell'altro è un po' come per spiegarmi quando noi guardiamo il volto di un'altra persona non mettiamo insieme il naso la bocca gli orecchi gli occhi eccetera ma abbiamo attraverso un singolo atto appercettivo ci formiamo quell'immagine quindi per quanto riguarda i sensi noi usiamo per quanto riguarda la percezione noi usiamo i nostri sensi per quanto riguarda la psicoanalisi il procedimento psicoanalitico noi usiamo questo strumento che è l'empatia certamente questo lo dico io ci sono varianti importanti nelle capacità empatiche delle persone ecco riprendiamo un attimo quindi rispetto ad esempio a Freud appunto da cui lui discende quale essere umano discende insomma dalle teorie di Cout e in che cosa è diverso dall'essere umano freudiano in due parole potremmo dire che per Freud in Freud si parla dell'uomo colpevole per Cout si parla dell'uomo tragico l'uomo di Freud è quello che è in questo perenne dilemma fra l'accettazione delle sue pulsioni e l'accettazione del principio di realtà e delle regole della società e il suo superio l'uomo di 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 Cout è un uomo tragico perché secondo Cout la cosa principale che 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 l'essere umano e poi quindi poi anche il paziente in analisi deve cercare di realizzare sono le sue aspirazioni ovviamente compatibilmente con la realtà esterna ma la necessità di realizzare il suo sé attraverso appunto la realizzazione delle sue aspirazioni delle sue ambizioni per Cout è fondamentale ed è la sua e il non riuscire a fare questo lui dice che è una delle cause della delle patologie attuali della depressione attuale proprio perché non c'è la possibilità per molte persone di realizzare quello che profondamente il loro sé nucleare vorrebbe realizzare quindi il concetto qui che introduco è quello di sé nucleare che appunto è come dice il nome stesso un nucleo all'interno del sé che contiene che contiene le aspirazioni le ambizioni e gli ideali ecco questo uomo tragico in cui a mio avviso si respira atmosfera europea diciamo che deve sviluppare lui stesso non solo l'analista lui stesso una capacità empatica ma il trauma in questo sviluppo diciamo del sé nucleare e delle sue possibilità che ruolo gioca il trauma per Cout di fatto sconvolge il processo di integrazione sia della grandiosità che della idealizzazione nelle strutture più mature del sé mentre sopravvivono dei pezzetti dei segmenti diciamo arcaici di queste due configurazioni sappiamo che le due configurazioni principali per Cout sono il sé grandioso e l'imago parentale o genitoriale idealizzata queste due configurazioni prevedono anche nell'analisi due tipi di transfert di oggetti sé il transfert appunto idealizzato sull'imago appunto parentale idealizzata e il transfert dell'oggetto sé speculare come in altre teorizzazioni vedi Winnicott o anche la Klein configurazioni originarie nello specifico di Cout queste due che dicevo hanno bisogno di una risposta graduale per essere gradualmente progressivamente frustrate con una frustrazione ottimale perché se vengono frustrate appunto il trauma che ci sia un trauma importante originario parlando usando il termine trauma accumulativo di Cann che siano appunto dei piccoli traumi che si susseguono certamente è fondamentale che non venga interrotto questo processo di interiorizzazione graduale delle e di trasformazione di queste due configurazioni quella del sé grandioso che poi esiterà se tutto va bene nella nello sviluppo sul polo per quanto riguarda il polo delle ambizioni e delle aspirazioni come dicevo prima e dall'altra l'imago parentale idealizzata che esiterà anche qui se tutto va bene in una costruzione interiorizzazione di ideali e di valori se invece intervengono degli elementi traumatici questo può portare a delle patologie Cout ne elenca tre tipologie di traumi di conseguenze e di patologie se il trauma avviene in un'età molto precoce si crea una quella che lui definisce una vulnerabilità diffusa del soggetto sono persone che quindi hanno enormi difficoltà a stabilire per esempio un qualunque tipo di omeostasi psichica che ne so per esempio un disturbo bipolare potrebbe essere letto in termini couttiani come un disturbo primario del sé traumi più tardivi secondo lui possono portare a delle fantasie o anche atti atteggiamenti perversi perché c'è una erotizzazione una sessualizzazione delle relazioni traumi ancora successivi diciamo alla fine della prima infanzia possono portare per esempio a dei difetti di idealizzazione questo in maniera molto sintetica è molto breve quello che può essere una catalogazione dei disturbi del sé volevo prima di chiederti poi le conseguenze tecniche che hai già brevemente accennato se riuscivi velocemente a dirci in che modo il concetto di narcisismo in coutt differisce da quello freudiano mi sembra che già un po' è accennato ma se puoi in poche parole allora essenzialmente potremmo dire che coutt per certi versi riscatta il narcisismo quindi abbiamo un narcisismo sano un narcisismo patologico abbiamo una linea evolutiva come dice lui narcisistica che almeno nelle prime e seconde formulazioni corre parallela alla linea evolutiva delle relazioni oggettuali non c'è un narcisismo che poi si dovrà trasformare in qualche cosa di più evoluto come in Freud c'è un narcisismo che comunque è fondamentale per la crescita per la costituzione di un sé sano e che è collegato per certi versi all'altra linea evolutiva quella delle relazioni oggettuali ma non ripeto non c'è come c'è in Freud invece una sorta di un pensiero che prevede che da una situazione di narcisismo primario o anche secondario poi si debba andare verso una appunto trasformazione che prevede che una come un superamento di questo narcisismo in una dimensione più matura costituita dalla relazione d'oggetto hai accennato prima il concetto di empatia come qualità essenziale quali sono come dire le modificazioni tecniche che il modello di Cout introduce nella conduzione della terapia dell'analisi potrei esemplificare questo con una citazione che Cout fa nelle due analisi del signor Z come abbiamo poi potuto evincere successivamente le due analisi del signor Z sono una sorta di autobiografia di Cout la prima analisi del signor Z riguarda l'analisi che lui aveva fatto appunto con l'Eisler la seconda analisi del signor Z pubblicato in inglese nel 79 quindi due anni prima che morisse la seconda analisi è una sorta di autoanalisi l'analisi con l'Eisler fu lo scrive appunto Cout in questo libro fu un'analisi molto difficile perché l'Eisler batteva molto sul transfert materno e batteva molto sul fatto che Cout fosse appunto un fosse stato un bambino che era stato talmente al centro dell'attenzione della madre ricordiamo appunto il padre quando lui aveva un anno e mezzo partì per la guerra e ritornò quando lui aveva cinque anni quindi ci fu un legame simbiotico stretto quindi diciamo che anche per problematiche della madre che poi si vedranno successivamente quasi psicotiche ci fu un legame strettissimo con la madre che comunque continuò a avere con Heinz anche dopo il ritorno del padre questo questo legame strettissimo e soffocante Cout lo riconosceva però la Aise sottolineava molto e batteva molto come dicevo su questo fatto sta che Cout si arrabbiava durante alcune sedute diventava veramente molto irascibile e alternava momenti di irascibilità a momenti di depressione anche con qualche minaccia suicidaria lui si lamenta molto appunto nella sua descrizione che fa di questa analisi dell'atteggiamento dell'Eisler all'inizio tu mi chiedevi in quale ambiente nasce c'era la psicologia dell'io che imperava negli Stati Uniti e gli Eisler erano due rappresentanti importanti di questa psicologia quindi sappiamo che la psicologia dell'io ha una certa tecnica e anche per certi versi molto rigida comunque Cout a un certo punto l'Eisler a un certo punto una volta prima di introdurre l'interpretazione dice qualcosa del tipo è certo deve essere molto difficile non avere quello che ci si aspetta in certi momenti ecco Cout dice che quel tipo di premessa all'interpretazione è fondamentale perché il paziente quindi lui stesso in quel caso possa davvero riuscire poi ad introiettare ad accogliere poi introiettare l'interpretazione dell'analista quindi un moto chiaramente identificatorio attraverso l'impatia all'introspezione Cout dice che l'empatia è sinonimo di introspezione vicariante l'introspezione vicariante ha lo stesso significato di empatia quindi questo movimento dell'analista empatico è fondamentale per lui prima ancora di ogni tipo di interpretazione anzi arriva a sostenere negli ultimi scritti soprattutto che comunque al di là dell'interpretazione classica è terapeutica la risposta empatica la risposta empatica dell'analista che poi la risposta empatica mancante dell'oggetto se del paziente quando era un bambino quindi penso che fondamentalmente sia questa la 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 differenza chiaramente poi c'è tutta una serie di 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 una costellazione di elementi questo diciamo è quello centrale da cui poi si dirama una raggiera tutta una serie di indicazioni terapeutiche per condurre un'analisi a tuo avviso quale conseguenze quale credità insomma ha lasciato Cout nella psicanalisi nordamericana in particolare ma in generale in giro per il mondo il il nucleo e se ha prodotto degli sviluppi e quali quali sono insomma allora senz'altro l'accennavamo prima un un lascito è stato poi utilizzato ripreso dal modello relazionale di psicanalisi modello relazionale di psicanalisi è un piatto come dire misto in cui ci sono c'è la teoria delle relazioni oggettuali c'è appunto la psicologia analitica del sé di Cout c'è il modello interpersonale quindi è un piatto misto questo è fondamentale poi sicuramente poi si è sviluppato una scuola un modello di psicologia analitica del sé tra cui appunto i maggiori di cui i maggiori rappresentanti per esempio sono Storolo Hartwood e via dicendo ma a livello diciamo più generale penso che l'aver introdotto in maniera così specifica il concetto di sé è il lascito principale è il condizionamento principale perché comunque oggi non c'è scritto in cui non si parli di sé quindi questo è vero che il concetto di sé non è propriamente di Hartman come origine però non a caso si chiama psicologia del sé quindi la introduzione di questo concetto che poi appunto come abbiamo detto prima è anche un contenuto mentale è l'elemento principale tra dell'eredità che abbiamo raccolto da Cout che ci piaccia o non ci piaccia perché poi io posso essere posso sposare le sue concettualizzazioni ma anche chi non le sposa oggi come oggi non può far meno il concetto di sé anche nella versione couttiana ecco per concludere a tuo avviso quali sono i libri le pubblicazioni imprescindibili per avvicinare o conoscere il pensiero di Cout allora la già citata analisi delle due analisi del signor Z proprio perché come esemplificazione pratica di due modelli che si vedono fianco a fianco è molto utile ovviamente imprescindibile narcisismo analisi del sé perché lì c'è tutto quello che poi comunque svilupperà in seguito il postumo la cura la cura la cura psicoanalitica e la ricerca del sé per chi poi fosse interessato a una interessante ricca e dettagliata biografia di Cout che è quella a cui ho attinto anche io spesso e non ultimo anche per questa intervista è un il testo di di Strozier dicevo la biografia di Heinz Cout la biografia di uno psicoanalista che appunto è a cura di questo Charles Strozier e il titolo originale è The Making of a Psychoanalyst questi diciamo sono i testi che consiglierei comunque consideriamo che ha scritto abbastanza ma non tantissimo quindi insomma i libri pubblicati sono 4C 44 fondamentalmente la ricerca del sé la cura del sé la guarigione del sé e narcisismo analisi del sé poi alcuni appunto sono a cura di come questo questa biografia ripeto molto puntuale e molto attendibile ringraziamo Cristiano Rocchi per questa panoramica e incoraggiamento a studiare il pensiero di Cout approfondirlo e anche come dire fare i nostri suggerimenti tecnici che ne sono derivati e grazie dalla società psicoanalitica italiana e da me di aver accettato di partecipare al progetto grazie a voi e a presto e un abbraccio